daily cogito svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi ogni mattina dal lunedì al venerdì con rick du ferre ciao a tutti buongiorno e bentrovati anche quest'oggi qui su daily cogito io sono un rick du ferre disciolto sconfitto da questa calura insopportabile ma temerariamente determinato a registrare l'episodio di oggi quindi ce la faremo ma davvero quelli che dicono che l'estate meglio dell'inverno sono convinti di quanto stanno dicendo ma perché ragazzi ho questa sensazione che contro il freddo le difese ci sono posso vestirmi distrati posso cercare riparo mentre il caldo mi perseguita ovunque è insopportabile ma come si fa infatti non riesco manco a fare dei video perché perché non voglio che mi vediate ridotto così nonostante questo questa sera alle 21 sul primo canale youtube ci sarà la live monografica dedicata a john locke sotto in descrizione trovate il link mettetevi l'appuntamento il promemoria non perdetela perché sarà davvero interessante attuale e importante quindi vi aspetto alle 21 speriamo sia un po più fresco di adesso altrimenti alla live non sopravvivrò e non sopravvivremo ma ma adesso non perdiamo tempo siamo stoicamente qui con daily cogito ed è proprio di stoicismo che voglio parlarvi perché ci chiediamo ma gli stoici quando parlavano della felicità e della ricchezza erano ipocriti piccolo preambolo durante la giornata di ieri in un momento di insopportabile clima ero steso sul letto madido di sudore con il computer in grembo e navigavo pigrammente fra alcuni gruppi di filosofia su facebook ce ne sono decine voi dovete sapere che io bazzico fra questi gruppi sempre con dei nomi falsi perché quando entro in gruppi di facebook la gente lo vede e allora tutti quanti cominciano a impazzire e o mi insultano eccolo qua lo stronzo quello che difende soros e il capitalismo il falso filosofo oppure mi elogiano geni incredibili ricordatevi sempre che rick dufer polarizza e non c'è nessuno che dica rick dufer ma sì da un bravo ragazzo no 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 e quindi io entro in questi gruppi sempre con nomi falsi così riesco a passare inosservato comunque detto questo entro in un gruppo di filosofia e c'è un post di accuse a seneca accuse a seneca di ipocrisia perché si dice guardate questo qua predicava il distacco dai beni materiali e poi era pieno di soldi predicava la castità ed era pieno di donne predicava e razzolava male ok quindi proviamo a chiederci ma seneca era era ipocrita perché le cose sono più complicate del guardate scriveva sti libri e poi si comportava in maniera totalmente diversa ora questa visione qua ovvero del saggio che predica il distacco dei beni materiali e che per essere coerente dovrebbe lanciarsi nella dimensione della povertà e dell'indigenza è un'immagine molto molto presente che si traduce in cose spesso odiose come per esempio l'immagine del filosofo che non può guadagnare dai suoi pensieri dai suoi libri dalle sue idee perché il guadagno è sempre sporco insomma c'è questa tradizione cattolica moraleggiante che ci ha convinto che le ricchezze materiali ci distanziano da dio dalla verità e quindi dalla felicità è la tradizione che porta in palmo di mano figure come quella di san francesco anzi la figura come dire convenientemente ricordata di san francesco perché in realtà san francesco è molto diverso rispetto a quello che si racconta dai padri della chiesa oppure di madre teresa quindi queste figure che convinte che i beni materiali ci distanzino dalla dal contatto con dio e quindi con la nostra verità debbano disfarsi cioè i pensatori filosofi religiosi debbano disfarsi di ogni possibile ricchezza e in fin dei conti noi abbiamo questa immagine che felicità e verità pretendano quel gesto del disfarsi dei beni della ricchezza dei possedimenti della macchina della casa e che l'unico modo per essere felici e in contatto con dio oppure in contatto con la verità sia appunto non avere nulla e questa è l'unica via possibile questo è molto profondo inserito nel nostro animo e si traduce poi nella sensazione in quel detto che per me è assurdo che i soldi non fanno la felicità i soldi non fanno la felicità che poi avrebbe il completamento adeguato pensa quanto può essere felice senza soldi va bene questo è un altro discorso però la sensazione che i soldi non facciano la felicità si traduce nel fatto che per essere felici non bisogna avere soldi ok questo è un po il discorso e qui c'è tanto c'è tanto moralismo però vabbè non voglio entrare troppo in questo per rispondere all'accusa di ipocrisia rivolta a Seneca e rivolta agli stoici che poi una buona parte degli stoici in realtà erano benestanti voglio dire anche gli allievi di Seneca hanno fatto carriera politica e sono andati avanti hanno avuto ricchezze eccetera eccetera e poi voglio dire prendete Marco Aurelio era un imperatore e anche lui nei suoi pensieri predica la necessità del distacco dai beni materiali quindi anche Marco Aurelio era un ipocrita in realtà le cose sono un po diverse e per raccontarvi questo io vi prendo Epitteto peraltro io sotto in descrizione vi metto i testi di Epitteto anzi vi metto l'edizione Bonpiani con tutti gli scritti che ci sono pervenuti non direttamente da Epitteto ma dai suoi allievi dai suoi adepti Epitteto è una figura particolare perché era un filosofo e schiavo e in quanto tale non aveva dei beni propri ovviamente poi con dei dovuti distinguo la condizione di schiavitù nell'epoca di Epitteto non era quella che ci immaginiamo della gente incatenata che viene frustata no è un'altra cosa e infatti era anche un filosofo aveva degli adepti delle persone che lo seguivano e secondo Epitteto nei suoi scritti la vera questione in realtà non è non possedere nulla perché non possedendo nulla ce lo dice chiaramente Epitteto non si risolve niente cioè non è che disfandoti dei beni materiali tu d'un tratto diventi santo saggio filosofo meraviglioso no assolutamente la questione è che pur possedendo qualcosa ma anche tantissimo bisogna avere la lucidità la lucidità di non fondare la propria felicità su quegli elementi perché perché quegli elementi ci possono essere sottratti quello che Seneca Epitteto Marco Aurelio ci dicono non è che i beni materiali sono forieri di infelicità che possedendo tu sei rivolto all'infelicità alla falsità al materialismo alla superficialità eccetera eccetera non è niente di tutto questo secondo Epitteto il ricco può essere felice e libero solo se si rende conto che fondando la felicità sui beni materiali questo significherebbe che la felicità può essergli sottratta perché perché io posso avere anche tutti i soldi del mondo posso avere le macchine le case tutto ma quelle sono cose che per sfortuna per negligenza per cattiveria per conseguenza di cose che neanche dipendono da me possono essermi sottratte voglio dire se io sono una persona molto molto appassionata di abbigliamento e ho un guardaroba meraviglioso e quel guardaroba è l'orgoglio della mia vita e parla una persona che ama vestirsi bene purtroppo oggigiorno è un po difficile vestirsi bene con questo caldo ma insomma il punto veramente fondamentale è questo che io posso essere questa persona che ama a un guardaroba meraviglioso però se un giorno mi entra in casa un ladro e mi ruba tutti i vestiti oppure se sono una persona appassionata di tecnologia c'ho un computer incredibile prestante straordinario e qualcuno me lo fotte oppure si brucia cosa significa significa che mi sta qualcosa mi sta sottraendo non solo quell'oggetto ma anche la felicità se io fondo la mia felicità su questo elemento significa che la mia felicità è fragile è transitoria e mi verrà inevitabilmente sottratta prima o poi questo vale persino dice pitteto per le relazioni amorose se io fondo la mia felicità sul sullo stare con qualcuno sull'essere innamorato di qualcuno sull'essere sposato alla persona che ho sempre amato devo rendermi conto che la morte un tradimento ma anche lì un colpo di sfortuna può portarmi via la felicità perciò il ricco è un po nella stessa situazione dell'innamorato se il ricco sapendo questo questo trucco riesce a fondare la propria felicità su se stesso sulla propria dignità sul proprio essere libero allora qualcuno potrebbe anche sottrargli le ricchezze ma lui rimarrà comunque felice lo so che sembra una cosa cinica ma in realtà non lo è vi consiglio di leggere pitteto non posso adesso parlare per 50 minuti anche se mi piacerebbe di questa cosa il punto è che se io io posso essere sposato con la persona che amo da sempre ma devo rendere e questo può rendermi felice ma se la mia felicità dipende solo da questo o comunque dipende solo dai elementi esteriori a me io devo rendermi conto che la mia felicità mi verrà sottratta a un certo punto inevitabilmente e che quella felicità quindi non è una felicità duratura non è una felicità autentica ma è la felicità transitoria di chi riesce a trovare uno sfogo esterno rispetto al sé rispetto alla propria identità e l'altra cosa fondamentale della dottrina di epiteto perdonatemi se la voce mi traballa ogni tanto ma veramente con questo caldo cio la voce la gola secca è inevitabile comunque dicevo con la dottrina di epiteto ci rendiamo conto anche di un'altra cosa che il povero non è automaticamente santo c'è un'altra cosa della tradizione cattolica che io sinceramente ho sempre ho sempre trovato inaccettabile veramente superficiale quello sì è che il povero per il fatto di essere povero allora è beato è santo un po' il discorso di gesù sulla montagna beati i poveri perché di loro il regno dice no in realtà è beati i poveri di spirito che è una cosa un po' diversa però la sensazione culturale che il povero per il semplice fatto di essere povero è anche santo è preferito agli occhi di dio è una roba che ho sempre trovato odiosa epiteto ci dice che le cose non stanno così che se anche uno si disfa di tutti quanti i propri averi ma è una testa di cazzo rimarrà una testa di cazzo non è che perché uno diventa povero da in carità tutto allora a posto ma io ma avete mai conosciuto un povero cattivo io ne ho conosciuti io cioè nel senso non è che adesso tutti quelli che sono poveri sono già santi e beati quindi ci sono questi due elementi il ricco può essere felice libero così come il povero può essere l'ultimo degli stronzi non è il possesso così come non è la sottrazione dei beni a rendere libero e felice qualcuno in questo modo questo è il punto veramente fondamentale le ricchezze prendono l'unica dimensione che meritano l'uso che ne facciamo le qualifica a me in questo viene in mente un passo di seneca chi ha visto lo spettacolo seneca nel traffico questa cosa l'ha già sentita a un certo punto seneca dice che parlando proprio del tempo della vita non è la lunghezza della vita a qualificarla ma l'uso che se ne fa da questo punto di vista la ricchezza è come il tempo non è la quantità di tempo non è la quantità di denaro di beni sia in positivo che in negativo a rendere felice dignitoso qualcuno a rendere filosofo qualcuno ma è la qualità ecco ciò che ci può rendere felici l'uso che ne facciamo del tempo l'uso che ne facciamo della della ricchezza ci sono anche qui due estremi faccio il parallelo con il tempo da un lato seneca ci dice che appunto non è che più la tua vita è lunga più di maggior qualità è la vita che hai fatto anzi chi vive molto a lungo spesso ha vissuto pochissimo proprio perché cercando di non fare esperienze è riuscito ad allungare la propria vita dall'altra parte abbiamo l'estremo opposto che è un po la traduzione diciamo così il parallelismo con chi è convinto che essendo povero si è felici santi eccetera eccetera abbiamo quelli che usano quel verso di mi sembra sia cohen ma sicuramente l'ha citato carto cobain it's better it's better to burn out than to fade away cioè è meglio bruciare velocemente che spegnersi lentamente anche lì non è quello non è che perché uno si è bruciato il tempo velocemente allora è no è proprio l'uso che facciamo del tempo e allo stesso modo l'uso che facciamo della ricchezza il filosofo da questo punto di vista può persino essere ricco il filosofo può persino essere potente un imperatore se la sua serenità non dipende da quella ricchezza o da quel potere per questo lo stoicismo non è affatto non solo non è ipocrita ma per me è la prospettiva più è la prospettiva più serena la prospettiva più condivisibile la prospettiva più più adeguata al mondo che ci circonda cioè il punto è che lo stoicismo a differenza di qualsiasi altro pensiero inerente alla ricchezza si è reso conto che la ricchezza è soltanto qualcosa di transitorio e in quanto tale non possiamo darle né una qualità positiva né negativa a priori l'uso che ne facciamo qualifica la ricchezza e la ricchezza può per questo aiutarci anche a fare delle buone cose fin tanto che io non fondo la mia felicità su quella ricchezza perché quando lo faccio allora fondo la mia felicità su qualcosa che mi può essere sottratto questo è un argomento in cui torneremo di nuovo questa settimana perché parlerò anche del modo in cui spinoza intende la ricchezza il possedimento di beni e lì abbiamo invece un filosofo che a differenza di seneca non ha mai posseduto nulla di che ma anche lui sapeva che le cose andavano in questo modo che la ricchezza che sia posseduta o mancante non è la questione fondamentale anche un ricco così come un povero possono essere felici ma fin tanto che prendiamo l'esempio del povero la sua felicità dipende dalla sua condizione di povertà anche quella per assurdo può avvenire meno perché se il povero eredita qualcosa o si innamora oppure finisce per fare un lavoro che gli piace e che lo fa guadagnare allora potrebbe essere infelice perché non è più povero cioè capite che non è quello il punto il punto è su cosa fondi la tua felicità la tua felicità deve fondarsi sulla tua capacità di fare ciò che ti rende libero e felice e ovviamente qui non siamo a discutere della definizione di felicità che forse è impossibile ma il punto fondamentale è che gli stoici non erano ipocriti e che la predicazione stoica sulla predicazione ho detto che parola brutta in realtà è una bella parola solo che ci richiama alla mente qualcosa che non ha a che fare con la filosofia ma la predicazione stoica sulla ricchezza in realtà è estremamente coerente e credo dovrebbe farci riflettere oggigiorno sul sulla relazione che noi abbiamo proprio con la ricchezza e con i possedimenti si può possedere ed essere felice fintanto che la mia felicità non dipende da quei possedimenti questa è la mia opinione a riguardo e l'opinione di Seneca di Pitteto quindi insomma non è solo la mia opinione ma con un commento potete dirmi ovviamente cosa ne pensate io vi ringrazio come sempre per l'ascolto ci vediamo questa sera alle 21 per la live su John Locke non mancate buona giornata e non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa